Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera di liberazione per le tare sessuali. Mi metto di nuovo davanti a Te, Signore, con i peccati dei miei antenati. Adesso Ti affido, perché Tu vi ponga fine tutti i sentiri profondamente solcati dal peccato sessuale. Dico no a tutte le tendenze verso atteggiamenti indecenti, violenze, fornicazioni, adulterio, abusi sessuali, incesti e perversioni. Rinuncio a tutta la brutalità, al masochismo, al sadismo, alla ninfomania, alla lossuria e alla prostituzione presenti nella mia famiglia. Mi oppongo ad ogni aggressione sessuale, ad ogni disordine della personalità, ai traumi e alle deviazioni nel comportamento. Ordina, Signore, a qualsiasi demonio che sia agganciato a queste forme di deviazione sessuale di andarsene adesso nel Tuo nome. La spada dello Spirito Santo infranga questa catena di vincoli maligni. Padre, perdona e porta salute sessuale d'integrità dove c'era malattia. Fa che ogni espressione sessuale sia pura e a Te gradita. Signore, io Ti benedico, Ti adoro e Ti ludo. Grazie perché riversi la Tua luce, la Tua perfezione e la Tua benedizione su queste aree attraverso il mio albero genealogico. Signore, Tu sei grande, Tu sei Dio, Tu sei Padre. Noi Ti preghiamo per l'intercessione con l'aiuto degli Arcangeli Michele, Raffaele e Gabriele perché i nostri fratelli e sorelle siano liberati dal maligno, dall'angoscia, dalla tristezza, dalle ossessioni. Noi Ti preghiamo, liberaci, oh Signore. Dall'odio, dalla fornicazione, dalla invidia. Noi Ti preghiamo, liberaci, oh Signore. Dai pensieri di gelosia, di rabbia, di morte. Noi Ti preghiamo, liberaci, oh Signore. Da ogni pensiero di suicidio e aborto, noi Ti preghiamo, liberaci, oh Signore. Da ogni forma di sessualità cattiva, noi Ti preghiamo, liberaci, oh Signore. Dalla divisione di famiglia, da ogni amicizia cattiva, noi Ti preghiamo, liberaci, oh Signore. Da ogni forma di malefizio, di fattura, di stregoneria e da qualsiasi male occulto, noi Ti preghiamo, liberaci, oh Signore. Preghiamo, oh Signore che hai detto, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Per l'intercessione della Vergine Maria, concedici di essere liberati da ogni maledizione e di godere sempre della Tua pace. Per Cristo nostro Signore. Amen. Grazie. 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 Grazie.